La fine dell'anno è il vendimento dei clavici che abbiamo fatto controllo durante tutti i giorni di vendimento. L'ultimo giorno, in modo di stipulare la regla di Giaffordi, il primo anno di Januari, il primo anno di Januari e il primo anno di Januari, abbiamo fatto tutti i clavici del restante, tutti i venditori, abbiamo fatto tutti i clavici per guardare i saci del deposito di vela. Ora qui, in questo giorno, iniziamo a ricevere diversi punti di vendita con la sobra di clavici, iniziamo a prendere i saci. Se non possiamo calcolare, bisogna calcolare un contenitore di clavici per la sobra. Porto un po' meno, è vero? Abbiamo iniziato a guardare la sobra di saci, in ogni caso. Lo che si, è la differenza del anno anteriore, è che abbiamo riparato con più di 80% di clavici per guardare, è pagare, solamente pagare, e pagare in grande. Quindi, spero di pagare in grande sobra. in ogni caso, non lo so, è comprovare che i saci, al momento, è una medita di Covid da ben, i commercianti non posso tirare i saci, per un horario che si tratta, è interessante che non è per quanto riguarda l'arrivo, ci vediamo che il vendimento e il tiramento è relativamente buono, il controllo è buono, in alcuni locali sarà per il motivo di che non c'erano alcuni costi per direcciare, ma sarà per un certo ora, per quanto riguarda l'arrivo, non è complicato, ma in generale è molto buono, e per quanto riguarda l'arrivo, ci vediamo che il tiramento di clappi, che ci vediamo che sia buono, non c'erano alcuni incidenti, e ci vediamo che la nostra metà di compagno, è la sicurità per un attorno a l'arrivo. E speriamo che l'arrivo a l'arrivo, ci vediamo che sia buono, per il attorno a l'arrivo e l'arrivo, e ci vediamo che ci vediamo che sia buono, ci vediamo che sia buono, ci vediamo che ci vediamo. Pa, se non ci vediamo con le clappi, e qui iscrive, se pensavi di guardare in qualche modo, mi chiedi di controllo, lo faccia in un luogo, ora lo faccia, sono in maniera 18 anni, in un'edito di unjugorano, ma non ci vediamo che i clappi, e se è eccollo, ci vediamo che queste cose cose cose, per le persone, e se non ci vediamo in caso, e qui si chiama i clappi nel caso, se cumpriano i clappi, qui sopra, e se non c'è un cammino buon per guardare i saci, è sempre disponibile per usare i saci e guardare in maniera sicurezza in maniera sicurezza.